Se bisogna pensare a quello che ha fatto la società civile lombarda contro la mafia, bisogna partire dalla scuola, che è stata all'avanguardia, ha prodotto dei modelli di partecipazione tra i più avanzati, forse soltanto, anzi, solo la Sicilia è stata davanti alla Lombardia e la campagna degli anni 90. Devo dire che quello che si ha è una ricchezza straordinaria di iniziative che ha riguardato tutto il mondo della scuola, non l'università che l'era dopo e noi dobbiamo chiederci come mai con una scuola che si è data tanto da fare sull'educazione alla legalità poi la società degli adulti sia rimasta passiva per tanto tempo. Questo è un grande interrogativo, noi non siamo così perché con la scuola che abbiamo non può che finire così. Nonostante la scuola che abbiamo avuto per fortuna c'è stato il silenzio per decenni.